Giovedì 8 dicembre, buongiorno, buona festa dell'Immacolata a tutti voi. Ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG che vedremo a molte notizie nel suo paniere. Partiamo dalla cronaca internazionale perché tutti i quotidiani oggi riportano di quegli arresti importanti, ben 25, fatti in Germania nei confronti di una cellula eversiva che aveva una sua propagine anche in Umbria. Infatti vi racconteremo dell'arresto che è stato effettuato dalla Digos proprio ieri in un albergo del Perugino. Ma poi chiaramente dalle pagine nazionali, ieri c'è stata la prima del Teatro La Scala, come da tradizione il 7 dicembre. È stato un momento di incontro tra istituzioni, il primo giorno, la prima occasione in tal senso per la premier Meloni, accanto a Mattarella, accanto alla von der Leyen. E ancora parleremo però dall'Umbria dell'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo. Noi abbiamo seguito questo evento ieri in diretta e dunque vi faremo risentire le parole del vicepresidente della regione dell'Umbria, Roberto Morroni, che ieri ha acceso l'albero. Questo è molto altro, perché parleremo anche di cronaca da Città di Castello. Allora andiamo con ordine, partiamo dal quotidiano d'orso nazionale di Il Messaggero, che titola, come vedete la prima foto è dedicata proprio alla prima della scala a Milano, l'abbraccio della scala, ovazione alla prima del teatro per il Capo dello Stato, che lo vedete sul palco, insieme al premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione Europea von der Leyen. Ovviamente l'ovazione davvero del pubblico. Ma il titolo principale, come dicevamo, è dedicato a, in qualche modo, un appuntamento collaterale della von der Leyen, che prima ancora della prima della scala ha incontrato Mattarella e Tajani, si è parlato di PNRR, il patto sulle modifiche. La von der Leyen ha detto che ha eccellenti rapporti con il governo, si è parlato di adeguare gli obiettivi strutturali all'aumento dei costi. Questo in primo piano e poi dalle pagine del territorio laziale, il Tar boccia gli ambientalisti, la Orte Civitavecchia va finita. Era un contenzioso, apertosi nel 2001 su un'opera ritenuta essenziale, ovvero la trasversale Orte Civitavecchia, che ora si farà. Il dorso nazionale della nazione apre anch'esso con la fotonotizia della prima alla scala di Milano, scala reale, questo è il titolo che viene scelto, la foto l'avete ampiamente vista già nell'altro quotidiano. E poi però il titolo Emergenza Salari, CGL e Will scioperano a mezzo sindacato, il taglio del cuneo fiscale in manovra non basta, la Premier Meloni vorremmo fare di più ma non abbiamo soldi, pioggia di emendamenti, spiraio sulla proroga del super bonus. E poi dai quotidiani regionali della nazione, in Umbria antiterrorismo, Blitz in albergo, cittadino tedesco viene fermato a Perugia, ancora un Bertide, c'è un'altra vittoria milionaria in tabaccheria con un grattevinci, a Gubbio è stato acceso l'albero di Natale dei record. E poi il Corriere dell'Umbria per le pagine regionali, ma adesso andiamo a vedere alcune delle pagine nazionali, partendo da il messaggero che apre un focus sulle misure economiche che il Governo metterà in campo. Multe, lo stralcio è inabilico, spetterà ai comuni decidere la cancellazione. Niente automatismi, ai sindaci va la scelta, sul condono delle cartelle fino a 1000 euro, c'è l'allarme del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così dice, i bilanci sono a rischio, i vecchi ruoli valgono 300 milioni. Ma quanto è il tesoretto, quanto sarebbe, potremmo dire così, il tesoretto a disposizione dei comuni se riuscissero a riscuotere tutto quello che in realtà poi non riescono ad intascare? Ebbene, ce lo dice il messaggero, le imposte non riscosse sono un tesoro nascosto che vale 1100 miliardi di euro, davvero tantissimi. Ancora dal messaggero alimentari, giù le vendite scatta la corsa ai discount, tonfo del 7,9% nel mese di ottobre a causa dell'aumento dell'inflazione. Gli acquisti nei supermercati low cost balzano del 10% in più rispetto allo scorso anno. Ovviamente quello che soffre di più è il commercio. A dettaglio meglio comprare i prodotti sfusi scegliendo bene si risparmia il 30%. Ci sono anche le interviste agli esperti del settore. Andiamo avanti dal messaggero. Parliamo di politica all'alta tensione che si respira in Italia. Minacce alla Premier e alla figlia e anche Conte condanna. Che cosa è accaduto? Che su Twitter un 27enne ha scritto, rivolgendosi alla Meloni, se togli il reddito ucciderò te e Ginevra. Ginevra è la figlia del Premier. Ovviamente la ferma condanna di questo tipo di minacce. Lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, che è uno dei sostenitori più accesi del reddito di cittadinanza, chiaramente stigmatizza questo tipo di interventi e questo tipo di esternazioni. Ci sono ovviamente anche altri spunti politici, ma noi andiamo avanti e parliamo di quello che poi sarà il primo servizio di questa rassegna stampa. Siamo ancora nel quotidiano nazionale del messaggero che ci porta all'estero. Preparavano un golpe maxiretata in Germania. 25 arresti in Germania per una rete nazista che voleva assaltare il Bundestag. In manette anche una ex deputata era la chiave per entrare in Parlamento. Ma perché questa cosa ci riguarda da vicino? Perché di questa cellula criminale che ha portato a 25 arresti in Germania, una parte, seppur piccola, era anche in Umbria, nascosto in albergo per giorni, il giallo del tedesco preso a Perugia. La Digos, infatti, ieri mattina, ha eseguito un arresto proprio a Perugia per questa operazione internazionale. Il servizio. Nella prima mattinata odierna, conclusione di una complessa attività investigativa che ha portato all'arresto di 25 membri di un gruppo terroristico di estrema destra tedesco, la Polizia di Stato di Perugia ha proceduto all'arresto, presso un albergo situato in località Ponte San Giovanni a Perugia, di un cittadino tedesco, classe 1958, ex ufficiale dei reparti speciali dell'esercito tedesco. L'operazione si inquadra nell'ambito di una complessa indagine della Polizia tedesca, tesa a disarticolare una radicata rete terroristica ispirata al Terzo Reich, che conta più di 20.000 militanti. L'attività sul territorio italiano è stata eseguita dal personale della Digos della Questura di Perugia, coordinata dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. L'indagato è accusato di far parte di un'associazione criminale, avente l'obiettivo di sovvertire con ogni mezzo, anche attraverso la Commissione di Reati, l'Ordine Democratico tedesco. Questa notte, poi, in seguito all'emissione di un mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria tedesca, gli operatori hanno fatto irruzione all'interno della struttura e dopo aver localizzato l'uomo, lo hanno arrestato e accompagnato presso gli uffici della Questura per l'attività di rito. All'interno della Camera della Struttura Ricettiva, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale riconducibile all'attività sovversiva dell'organizzazione terroristica. Sono in corso le procedure finalizzate all'estradizione del 64enne. Chiudiamo le pagine nazionali con una carrellata di foto che arrivano direttamente dalla Scala di Milano. Abbiamo visto essere un po' la foto di apertura dei quotidiani nazionali. Ieri alla prima, davvero uno sfoggio di eleganza da parte soprattutto delle prime donne. E allora nel foyer c'era Ursula von der Leyen, la vedete qui nella foto a sinistra, presidente della Commissione Europea. Ma tra poco vedremo anche Giorgia Meloni, ovviamente tante le star come per esempio il ballerino Roberto Bolle, ancora l'attrice Alessandra Mastronardi e poi ancora Roberto D'Agostino in una Miss Leopardata. ed eccola la premier Giorgia Meloni in un elegantissimo abito armani. Insomma è stato un momento ovviamente dedicato alle star. È stato anche un momento di incontro tra istituzioni. Sottolino anche la presenza della senatrice Liliana Segre. Andiamo ora alle pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal Corriere dell'Umbria che ovviamente titola sul servizio che abbiamo appena visto tentato golpe in Germania e arresto a Perugia. L'Umbria è sempre più milionaria perché ad Umberti dei Ieri con un Gratta e Vinci, uno sconosciuto, ha vinto un milione di euro. Dopo il milione vinto la scorsa settimana a Gualdotadino, anche qui una tabaccheria. Questa volta non è il Super Enalotto, ma il Gratta e Vinci ha fatto la fortuna di qualcuno. L'ondata di influenza si abbatte sui pronto soccorso, crescono gli accessi legati al virus di stagione. Il primario Groff di Perugia consultare sempre il medico curante prima di muoversi da casa. Citerna, RIS nella casa della donna trovata morta. Più tardi vedremo un servizio su questo argomento. Perugia, la stazione di Sant'Anna sotto assedio. e vedremo perché. Foligno in mille a Roma da Papa Francesco. San Carlo Aste, Siam Materni. Bando per la Bretella. Ovviamente lo leggeremo nelle pagine locali. La Nazione d'Orso regionale apre con la fotonotizia che le feste abbiano inizio. È l'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo di Gubbio che ieri è stato acceso dal vicepresidente della regione, Roberto Morroni. Anche di questo tra poco un servizio. Il titolo principale dedicato al blitz antiterrorismo. E poi il rapporto a Genas. SOS, liste d'attesa. La sanità Umbra resta ancora in sofferenza. A Perugia, Maffeis, nomina donna Sorbaioli, vicario generale. Caro Bollette, nelle parrocchie, la Caritas fa una raccolta fondi destinata alle famiglie. E poi c'è il messaggero. Anch'esso chiaramente titola sul terrorista tedesco nascosto a Perugia. E poi però la fotonotizia viene dedicata a Cucinelli, Brunello Cucinelli, le clerk alla corte di Cucinelli. Vedete in questa foto. Ancora dal messaggero. Così i costi energetici bruciano i nostri utili. La Camera di Commercio di Perugia fa il bilancio delle imprese. terni sommersi da mascherine inutilizzate. E poi a Umbertide, un fortunato che gratta e vince un milione di euro. E allora andiamo a vedere rapidamente le pagine regionali. Abbiamo già letto e sentito del terrorista tedesco nascosto a Perugia. Ancora energia e materie prime a terra a causa dei rincari. L'indagine della Camera di Commercio dal titolo L'economia Umbra e i bilanci delle imprese fa emergere che le imprese umbre resilienti cercano di salvare produzione e occupazione. Ma sono ancora molto fragili sul tema della redditività. Vediamo crescere, dicono gli imprenditori, il fatturato, ma i costi di fatto azzerano i profitti. Questa l'estrema analisi della situazione. Vedremo che questo argomento è trattato anche negli altri quotidiani. E poi andiamo al Corriere dell'Umbria. L'influenza batte davvero colpi importanti. Pronto soccorso in affanno. Crescono gli afflussi legati al virus di stagione. E il primario Groff di Perugia dice evitiamo accessi inutili al pronto soccorso. Ancora il Corriere, anche il Corriere titola sulla analisi della Camera di Commercio e dei bilanci delle aziende Umbre nel 2023 investimenti con il freno tirato. Le imprese accelerano su fatturato e occupazione ma restano indietro perché di fatto i maggior profitti vengono azzerati dai maggiori costi. Intanto a CEA nascerà una multiutility dell'Umbria a soddisfazione per il perfezionamento della prima fase dell'operazione di aggregazione con la SM di Terni. Ponte dell'Immacolata parliamo di turismo alberghi quasi pieni turisti verso i mercatini mete ricercate Assisi, Gubbio, Perugia, Orvieto e Spoleto. Simone Fittuccia di Federalberghi l'occupazione è al 75% nelle stanze degli hotel. Arriva intanto a Perugia il ministro Santanchè con una riflessione mercoledì su prospettive di sviluppo. Ancora dai quotidiani nazionali scusate regionali siamo alla nazione Fontivegge un ubriaco crea il caos spinte a passanti agenti prima di dare in escandescenze nella volante e in questura alla fine il giovane viene arrestato proponeva vacanze fasulle da sogno condannato un cinquantenne il tribunale di Pesaro ha inflitto un anno e due mesi di reclusione ad un cinquantenne originario di Perugia. Nonna mi serve la tua carta di credito la donna sbaglia il pin la truffa non va a segno ve l'abbiamo raccontato è accaduto a gubbio ancora andiamo a volevano assaltare il Bundestag ma abbiamo visto ampiamente il servizio su questo argomento e sull'arresto dell'iversivo a Perugia parliamo di sanità liste di attesa l'Umbria ancora in sofferenza il rapporto a Genas sui sistemi sanitari delle regioni dice che siamo in ritardo sui tumori la specialistica ambulatoriale e le prime visite va a vedere la partita e insulta l'arbitro un atleta viene squalificato per quattro turni e questo accaduto a Todi andiamo queste sono le principali notizie dalle pagine regionali andiamo a vedere le home page dei siti internet allora vedrete che molti titolano in realtà proprio sull'eversivo tedesco ex colonnello tedesco titola Umbria 24 arrestata a Perugia pianificavano assalto al Parlamento e poi da Umbria24 passiamo a tuttoggi.info qui siamo a Terni dramma a Terni sparo al petto imprenditore in gravissime condizioni il titolo sull'albero di Natale più grande del mondo il messaggio di pace dell'Umbria parte da gubbio tra poco dicevamo un servizio su questo Perugia Today che apre anch'essa con l'eversivo tedesco volevano prendere il potere con le armi in Germania a Perugia il presunto reclutatore tragedia di San Giustino venerdì in cattedrale ci saranno i funerali di Natascia e Gabriele ricordiamo che il comune di Città di Castello e lo leggiamo in questa notizia da trgmedia.it ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino alle 14.30 ci saranno i funerali di due dei quattro ragazzi che sono morti nella notte tra il 2 e il 3 dicembre in un incidente stradale a San Giustino allora dicevamo queste sono le notizie in primo piano ma apriamo quella che in qualche modo ci ha visto protagonisti o quantomeno coprotagonisti nella giornata di ieri con una lunga diretta che ha seguito a gubbio l'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo doveva essere la Presidente Teseia ad accenderlo ma l'influenza ha colpito anche la Presidente e dunque è stato il Vice Presidente della Regione Roberto Morroni a premere il pulsante sul tablet che ha acceso le luci sul Montengino Roberto Morroni è stato ospite ieri sera in diretta del nostro TG serale con Ludovica Cacciamani risentiamo l'intervista Buonasera a tutti voi e ben trovati siamo ancora in collegamento da Piazza 40 Martiri dove poco fa è stato acceso l'albero di Natale più grande del mondo di Gubbio la creatura luminosa che dal 1981 illumina la città di Gubbio per il periodo delle feste che è diventata davvero un'immagine della Regione in tutto il mondo siamo in collegamento con chi quest'anno in questa edizione 2022 ha acceso l'albero di Natale di Gubbio ovvero il Vice Presidente della Regione Roberto Monroni Buonasera Vice Presidente grazie per essere con noi non è potuta essere presente la Presidente della Regione Donatella Tesei a causa di un imprevisto dell'ultimo minuto ma la scelta del Comitato Alberaioli è stata chiara fin da subito vogliamo che siano quest'anno le istituzioni ad accendere l'albero perché più che mai quest'anno un anno in cui è in corso un conflitto anche bellico nell'est Europa siano proprio le istituzioni a lanciare un messaggio di pace questo messaggio lei l'ha lanciato oggi dalla piazza beh un messaggio di pace perché dinanzi a questa meraviglia a questa opera come giustamente è stato evidenziato questa sera opera dell'ingegno di questa straordinaria comunità beh si emana un messaggio forte che è un messaggio simboleggiato dalle luci è un messaggio di pace ma è un messaggio anche di concordia di armonia è un messaggio di bellezza ed è un messaggio di serenità credo che questo sia un valore che accompagna l'aspirazione di tutti noi quello di vivere in un mondo caratterizzato da questi valori da questi elementi e credo che quest'anno proprio per il momento particolare che viviamo questo messaggio si debba alzare da questa piazza in maniera ancora più forte ancora più intensa lo abbiamo sentito anche prima nel corso delle interviste che abbiamo registrato in questo pomeriggio insieme in diretta l'albero di Natale non è solo un messaggio di pace di fratellanza fra popoli di solidarietà ma è anche diventato un'icona fra gli alberi di Natale nel mondo al pari di penso all'albero di New York a quello di Parigi quindi è tornato non a caso in conclusione degli spot firmati dall'agenzia Armando Testa per la campagna invernale della regione Umbria è corretto? Sì gli spot terminano con un'immagine proprio dell'albero dell'albero più grande del mondo dell'albero di Natale più grande del mondo perché questo perché crediamo che questa circostanza questa occasione che questa sera abbiamo celebrato per la 42esima volta sia a tutti gli effetti un tassello all'interno di un volto complessivo che è quello della nostra regione che è una piccola ma grande regione è grande per i valori che trasmette per i valori che ne connotano la vita la qualità della vita e quindi il messaggio che vogliamo dare con questa campagna promozionale e le altre che abbiamo fatto è quello di affermare un luogo che è la regione dell'Umbria che sono queste comunità caratterizzate da quei valori forti che sono valori che attingono da una forte identità dalla tradizione quindi valori robusti coriacei ma anche base per guardare al futuro e guardare al futuro con speranza con ottimismo e con forte volontà andiamo avanti le pagine locali partiamo dal Corriere dell'Umbria siamo a Perugia giovane picchiato alla stazione Sant'Anna lo sfogo di Katia Rinchi titolare del bar qui siamo sotto assedio ogni giorno la situazione è critica aggredisce siamo a Fontivegge cittadino siriano viene arrestato un 28enne case bruciate la giunta comunale dice sì alla demolizione del centro per l'infanzia e poi 200 bambini accendono il Natale siamo sempre a Perugia i giovani artisti hanno decorato tutti gli alberi posizionati lungo corso vannucci tra piazza della Repubblica e via dei Priori e poi andiamo a vedere altre pagine del Corriere dell'Umbria in particolare siamo nell'area del Trasimeno a Passignano sul Trasimeno rotatoria lungo la regionale 75 il comune in cerca di 400 mila euro per l'opera allo svincolo di Passignano est del raccordo sono pronti 600 mila euro della regione a Magione gli appuntamenti natalizi si aprono con l'inaugurazione del presepe di Sante Cacchiata e poi ad Assisi via Stradone in abbandono residenti chiedono interventi tra Assisi e Cannara solo lavori sporadici di vieto di transito per moto e biciclette ad Assisi lascia incustoditi i cani che provocano un incidente viene moltato il proprietario ancora a Bastia è ai domiciliari ma esce di casa viene denunciato dalla polizia un 29enne siamo a Todi app per comunicare con il comune con Municipium i cittadini possono segnalare problemi di servizi mentre l'ente può anche avvisarli in caso di pericolo aderuta a Natale con meno luci per le strade e nei negozi una decisione che nasce dalla situazione di questi tempi consiglio aperto a Todi su dimissioni nei CDA di Etab e Veralli Cortesi in basso da Marciano concerto della filarmonica tra ritorni e festa per i veterani ancora andiamo avanti ci spostiamo a città di Castello strage dei ragazzi al vaglio le telecamere torniamo a parlare del terribile incidente stradale di San Giustino lo schianto è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza di alcune aziende che ora sono state acquisite dagli inquirenti il prossimo titolo ci porta a quello che sarà il prossimo servizio siamo a Citerna l'omicidio di Pistrino sono arrivati gli esperti del RIS tra poco il servizio CMC fa scuola nella formazione in azienda l'amministratore delegato Ponti dice da sempre puntiamo alla crescita delle persone e poi ad Umbertide il titolare della tabaccheria dove è stato vinto un milione alla Grattevinci e ancora ad Umbertide alla Rocca apre il villaggio di Babbo Natale tra poco andremo a Pistrino ma andiamo a vedere l'ultimo titolo sull'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo da Guppio albero simbolo dell'Umbria il sindaco Piccini di Cantiano era ospite della manifestazione ricordiamo è stato il comune colpito dall'alluvione di settembre a cui è stata dedicata la stella e ancora da Guppio Sant'Ubaldo esorcista la ricostruzione del professor Bologna lo studioso è atteso sabato alla Sperelliana e sarà insignito del premio Pontifex Ubalde questo per la pagina relativa a Guppio ma abbiamo letto facendo un passo indietro che a Città di Castello si sta a Citerna in realtà si sta ancora indagando sull'omicidio della signora settantenne tedesca trovata morta nella sua abitazione e ieri sono arrivati gli esperti del RIS i RIS di Roma nell'appartamento di Mary Lesete questa mattina si sono presentati i militari del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche con loro anche il PM Paolo Abritti l'ispezione dell'appartamento è iniziato poco prima delle 12 con un solo obiettivo cercare di trovare indizi per risalire all'autore dell'omicidio della sessantenne al momento i militari stanno indagando a 360 gradi senza scludere nessuna pista forse l'ipotesi che stanno battendo meno è quella di una rapina finita male non ci sono infatti segni di affrazione sulle porte finestre l'appartamento non era su quadro e a quanto pare dalle prime testimonianze la donna non aveva oggetti preziosi da poter rubare in casa resta in piedi l'ipotesi che alla fine l'anziana non fosse così come tutti la pensavano in paese la donna infatti pare avesse avuto un trascorso un po' burrascorso dal punto di vista economico con alti e bassi momenti di difficoltà e veloci risalite aspetti che potrebbero aver fatto maturare anche rapporti tesi con alcuni individui così come pare avesse ripreso a uscire a frequentare delle persone dopo la morte del compagno nessuno esclude che sullo sfondo di questa intrigata storia non ci possa essere una storia finita male una donna dal presente dal contorno in sfumato è un passato un po' torbido gli inquirenti stanno effettuando delle accurate indagini per quanto riguarda tutti gli aspetti economici della signora che a detta di tutti nella frazione aveva uno stile di vita molto modesto una sorta di doppia vita in cui credono poco le conoscenti quelle stesse che giovedì mattina hanno deciso di dare l'allarme un segnale inequivocabile che non fosse tutto a posto erano le pressione delle finestre chiuse mai Mariel lo avrebbe fatto a questo va aggiunto anche tutte le luci spenti altro atteggiamento non proprio usuale della donna che era abituata a tenere sempre almeno una lampadina accesa siamo ancora al Corriere questa è la pagina di Gualdo Tadino e Nocera Umbra Presciutti ha deciso parlanti e vice sindaco tra poco anche su questo un servizio al Don Bosco una serata in ricordo di Sabrina il ricavato andrà all'Easp la serata si terrà domani alle ore 21 e 30 e poi a Nocera due giorni all'insegna della letteratura con la presentazione di ben tre volumi parco intitolato a Gualdo Tadino a Don Giussani a cento anni dalla sua nascita la cerimonia alle ore 16 a Casale e poi a Gualdo Tadino al Via gli eventi oggi alle ore 16 in Piazza Martiri siamo a Foligno mille folignati vanno da Papa Francesco il giorno dell'Epifania saranno a San Pietro a portare i doni dei Re Magi con delegazioni della Quintana del Carnevale di San Teraclio e delle associazioni il piccolo principe a Foligno è stato riscritto in dialetto e poi inaugurata la natività ispirata all'alunno in largo Carducci sempre dal territorio Folignate palestra di Via Sauro si parte con un nuovo impianto entro il 2023 la storia locale Folignate protagonista negli scatti di Laurentini all'Istituto Italiano di Design e poi la bella favola di Daria ed Alessio i due avvocati Folignati oggi si sposano nella bazia di San Pietro d'Assisi allora facciamo gli auguri torri di Properzio siamo a Spello aperte per le feste siamo ora a Spoleto la Fiera dell'Immacolata con 80 espositori oggi dalle 8 alle 20 la settima edizione in Viale Trento e Trieste e nelle vie Limitrofe Barba Nera confermato presidente di Confcommercio Morniano Spoleto corsa podistica in memoria dei minatori l'appuntamento torna oggi Norcia ricostruzione struttura commissariale a rischio è l'allarme dei comitati del centro Italia che hanno scritto al premier Meloni chiedendo di non sostituire Legnini a Monteleone di Spoleto documenti inediti spuntano e sarebbero utili per la restituzione da New York della famosa Biga ancora dalle pagine del Corriere siamo a Terni Bretella San Carlo Ast è stato pubblicato il bando la cometa di Miranda oggi verrà accesa alle ore 18 e poi il legale del nigeriano arrestato per l'omicidio di Borgo Bovio fa ricorso contro la carcerazione colpo d'arma da fuoco lo abbiamo letto negli titoli d'apertura ferito un imprenditore l'uomo 53 anni è stato operato d'urgenza si tratterebbe di un tentato suicidio e poi emergenza furti in abitazioni alle marmore i residenti chiedono la videosorveglianza a Narni Natale allo Scalo tanti eventi pista di ghiaccio e Luna Park a Giove la scuola Cantorum oggi alle 17 va in scena nella sala di via Roma due Narnesi derubate di cellulare e documenti in un hotel di Milano e poi Narni la bohème di Puccini in versione integrale a proda al Manini sabato alle ore 21 chiudiamo dalla Corriere con Orvieto Ponte di Corbara incontro tra Comune ed Anas prorogata di altri due mesi la limitazione ad un'unica corsia in basso Totò da nuovo cinema paradiso alla cecità adesso che ho perso la vista ci vedo di più la storia di Salvatore Cascio protagonista nel 88 del film di Tornatore che vinse l'Oscar ha parlato a Orvieto della rara malattia che purtroppo lo ha colpito e questo era il Corriere dell'Umbria andiamo alla Nazione per le sue pagine locali allora da tutto Perugia a Natale in centro è green e dei bambini oltre 200 alunni hanno decorato i boschetti il Perugino Tacconi ricomincia a camminare lo ha annunciato il figlio a Città della Pieve Banca Centro premia 112 giovani talenti a Castiglione del Lago la Strasimeno sarà in edizione natalizia il ritrovo è previsto in via Belvedere e poi ancora dalla Nazione siamo nel territorio Assisate gli alberi si accendono le luci no da oggi iniziano a splendere i simboli del Natale ma l'opposizione tuona queste feste saranno al buio disarmo nucleare Assisi si offre come luogo del dialogo bilaterale a Todi una mostra antologica dedicata a Giancarlo Biagini e poi a Gubbio l'accensione dell'albero di Natale dei record a Gualdo rimpasto in giunta Marco Parlanti è vice sindaco ma il nuovo assessore è già da comodi tra poco il servizio leggiamo l'ultimo titolo Nocera Umbra dannatamente sabato il nuovo libro di Alessandra Squarta la giovane nocerina lo presenterà alla biblioteca Pier Vissani torniamo a Gualdo Tadino perché ieri c'è stata la presentazione del rimpasto mettiamola così di giunta nuovo assessore nuovo vice sindaco lo ha spiegato il sindaco Presciutti la giunta comunale del comune di Gualdo Tadino cambia un suo componente dopo le dimissioni nei giorni scorsi del vice sindaco Fabio Pasquarelli nella giornata di mercoledì 7 dicembre con una conferenza stampa svolta sin sala consigliare il sindaco Massimiliano Presciutti ha illustrato la composizione della nuova giunta comunale e le relative deleghe entra nella nuova giunta Giada Commodi che assumerà il ruolo di assessore con le deleghe a lavori e opere pubbliche attuazione e programmazione bandi e PNRR decoro urbano rilancio e valorizzazione del centro storico rapporti con le frazioni del territorio Marco Parlanti è invece il nuovo vice sindaco la presentazione ufficiale dell'assessore Commodi si è svolta mercoledì pomeriggio presso la sala giunta del municipio comunale alla presenza dell'intera giunta comunale dopo un periodo di confronto riflessioni sia all'interno della maggioranza che anche con soggetti esterni ho riorganizzato la giunta quindi Marco Parlanti sarà il nuovo vice sindaco con delega al bilancio personale semplificazione amministrativa servizi cimiteriali e servizi dedicati al benessere animale la nuova entrata è Giada Commodi che avrà le delega ai lavori e opere pubbliche ricattazione e programmazione del PNRR decoro urbano rilancio e valorizzazione del centro storico e rapporti con le frazioni del territorio gli altri assessori restano immutati con deleghe ripartite quindi Paola Gramaccia avrà le delega alla sostenibilità alla transizione ecologica energetica all'urbanistica alla programmazione all'assetto del territorio alla valorizzazione del patrimonio e ai rapporti con il volontariato e le parrocchie questa è una novità che ho voluto inserire Marmara Bucari che resterà assessore avrà le delega all'uelfare all'istruzione alla promozione turistica e culturale alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e la gioventù e ho inserito una delega che può sembrare un po' strana ma che ha il diritto alla felicità Stefano Franceschini che appunto rimarrà sempre assessore avrà le delega allo sviluppo economico rapporti con l'associazione di categoria la transizione digitale la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari lo sport i trasporti la numerazione civica personalmente ho tenuto le delega alla sanità alla protezione civile alle umanitensioni alla ricostruzione e i giochi delle porte che già seguivo personalmente questo è il nuovo assetto che da oggi è operativo e quindi governerà la città da qui al 2024 andiamo avanti con la nazione molti titoli in realtà li abbiamo già visti quindi andiamo rapidamente città di castello delitto di pestrino il ris nella casa di Mariel domani sarà lutto cittadino a città di castello per i funerali di Natascia e Gabriele a Umberti della vittoria al Grattevinci ancora Umberti da un programma fittissimo per le festività 2022 a città di castello scuole comuni un patto per sostenere gli studenti fragili andiamo a Foligno Natale affari a gonfie vele siamo partiti benissimo lo dice il presidente di Confcommercio Aldo Amoni full immersion nella natura per 150 giovani e 50 docenti romani al liceo di scienze sperimentali Le Conce inaugurato il nuovo percorso pedonale e ancora Spoleto la nuova scuola di Beroide pronta per il prossimo anno scolastico arte accessibile a Foligno alle persone con disabilità Tommaso Barbanera a Spoleto resta presidente di Confcommercio a Spoleto due cavalli se ne vanno a spasso lungo la Flaminia è dovuta intervenire la polizia e poi andiamo a Terni medici di base cercansi raffica di pensionamenti nel territorio dell'Asle 2 mancano già 49 unità ma nell'imminente anno nuovo abbondoneranno la professione per quiescenza altri 13 professionisti a Terni a che punte sono le procedure nelle nostre strutture sanitarie lo chiede il consigliere Fiorini raccolta fondi nelle parrocchie a Terni per contrastare il caro bollette che colpisce le famiglie sanità siamo ad Orvieto prometeo bracca la regione vigileremo sul mantenimento degli impegni no alla soppressione del distretto sanitario e in basso gli inviati visitano le città e l'Umbria è iniziato da Orvieto il press tour organizzato dalla guida turistica all'Holly Planet e da Umbria Tourism il portale regionale di promozione turistica questa era la nazione andiamo al messaggero le sue pagine di interesse locale questa è Perugia Natale per il centro una sfida cruciale mercatini dolci alberi dei bambini per unire la periferia con l'acropoli commercianti la formula ci piace siamo ottimisti per lo shopping e poi le prime nomine dell'arcivescovo Maffeis Sorbaioli è vicario generale e ancora la telecamera di via Mentana è stata danneggiata dai topi Sant'Anna risse paura alla stazione due violentissime zuffe in poche ore riaccendono la questione sicurezza in quest'area a Fontivegge un ubriaco alla fermata del mini metro aggredisce un passante gli spuggono i cani incidente feriti e animali morti una bruttissima storia che arriva dalla zona di Assisi un film tributo ai poliziotti uccisi nelle stragi di mafia martedì sera nella sala cinema Anica di Roma a 30 anni di distanza è stato presentato Memoris che racconta la storia di otto agenti di polizia che morirono insieme a Falcone e Borsellino le clerk ospite di Cucinelli e poi omicidio di Pistrino l'abbiamo visto arrivano Iris ancora Gubbio la battaglia del CSS finisce al Tar perché c'è stata l'udienza lo scorso 6 dicembre ora tra una quarantina di giorni all'incirca sarà depositata la sentenza Todi Casoranchicchio a porte chiuse Gualdo Tadino lo abbiamo visto è già da comodi la nuova assessore il nuovo assessore di Gualdo i tre alberi da record illuminano il Natale l'immagine dell'albero di Gubbio quello di Deruta e quello di Castiglione del Lago e poi Foligno risplende la cometa di Pale oggi alle 18 riparte la tradizione legata al bellissimo Borgo Montano dopo le lezioni sull'arte visita culturale Orvieto per l'Università della Terza Età e poi a Foligno al San Domenico c'è Manuel Magrini ancora da Spoleto Beroide scuola pronta a settembre il ritorno della fiera a Spoleto Luca e Salvatore nuovi parroci oggi c'è l'ordinazione in Duomo a Terni mascherine inutilizzate siamo sommersi la palestra scolastica ridotta a magazzino con scatoloni ovunque ormai le riutilizziamo dicono per altri scopi tassa sui disabili per entrare al cimitero è assolutamente assurdo parla Colasanti di Unmil il comune chiede 100 euro l'anno per il pass che consente di entrare con l'auto l'associazione malati tirodei dopo 12 anni chiudi battenti mobilità in città a Terni indagine sia telefonica che online cospea lo spaccio è nei giardini di notte non possiamo uscire lo dicono gli abitanti del quartiere l'addio arrida nella moschea poi il lungo viaggio verso la Tunisia il 39enne ucciso a Borgo Bovio torna l'incubo dei furti in tutto l'amerino e caccia a tre banditi incappucciati e infine dalla stella ai presepi così si accende il Natale nel Ternano schifano e il legame d'acciaio con Terni se ne parla al caos e come vedete si aprono di già le pagine sportive ma noi prima di leggerle ci fermiamo solo per qualche momento di pubblicità e poi tutte le ultime dai campi di calcio e non solo